ciao a tutti diaboletti e benvenuti in questo nuovo video io sono diabolix e oggi facciamo un nuovo video di bruston ragazzi oggi ragazzi andremo a giocare con bull e andremo a fare delle sopravvivenze semplicemente delle sopravvivenze in singolo apriamo questa mini cassa come avete visto c'è stato il chest opening brook il primo e un biglietto per l'evento l'evento mi sa che quasi finito ecco l'evento infatti inizierà tra quattro giorni ok non male andiamo a fare una partita andiamo subito con bull ci vediamo in partita ragazzi ok eccoci qua in partita ragazzi dobbiamo subito partire aggressivi c'è una nita dobbiamo sempre dobbiamo prenderla noi così la cassa cavate da coglioni nita di merda bravo tanto io in tre colpi l'ho fatto fuori quindi me la prendo e poi aspetto che vediamo le mosse di nita anche nita si cava da coglioni qua c'è un pocio che nemmeno c'è tanta vita però è infatti non l'arriverò mai bisogna tenere la distanza bisogna fare in modo di avvicinarci poi tra un pochino ok nostro è nostro deve essere nostro un altro colpo ed è morto non ho usato la mossa per recuperarsi un altro colpo è troppo appiccicato uso la mossa speciale mi sono messo a mezzo al casino niente ragazzi sesti sono arrivato sesto dovrei essere andato in pari a regola non dovrei perdere non guadagnare niente ok va bene come prima partita ci sta vedrai ragazzi ho ammazzato uno ne sono ritornati dieci addosso meglio di così non posso fare andiamo alla seconda partita quelle due casse devono essere per forza mie ok una è presa quasi presa che una presa e l'altra pure ok andiamo qua c'è un bull c'è una vita qui ma poco è ammazzata vuole venire a scassare le palle anche quel bull perché c'ho meno vita di lui ok l'ho preso che anche loro non era messo tanto bene ok ha usato la mossa speciale a caso praticamente bombardino ma ma di ficcato fatto fuori no sono morto mi sa di buono sempre in quattro addosso ragazzi meglio di così non posso farai sa per ammazzare uno arrivano quinto va bene va bene non male possiamo andare avanti sesto e quinto bisogna migliorare bisogna migliorare non mi convince tanto non mi sta convincendo tanto bull per il momento e allora vendiamoci subito questa cassa non capisco perché prima mi fa 1400 poi 2000 ecco appiccicato di così ora vedrai 2000 me la devi fa per forza sta arrivando un colt che potrebbe essere un problema essendo dalla parte più esterna non si può spingere verso l'interno sicuramente ci colpirà ok non ci ha colpito non ci caviamo dalle palle magari ci si mette pure qua dietro ok mi sono fatto shelly io me la do a gambe raga perché non volevo fare la fine di prima che se frank ha preso una germina e basta mi vale la pena ok vai frank è tuo che noob che è questo frank siamo noi sti in 4 quindi ce ne so c'è un altro frank addirittura manca l'ultimo colpo ok tirato fatto fuori sul livello 6 recuperiamo un attimo la vita ok scontro finale siamo livello 8 contro livello 4 uso la mossa per darmi la gambe recupero la vita e dovremmo riuscire a ok c'è anche la mossa speciale lui quindi bisogna stare attenti mi ha fatto un bel po' di danno che lo ha dato bene bene fatto fare ragazzi andiamo a vincere lo sapevo che potevo migliorare e così è stato quindi andiamo con la prima vittoria bull quasi livello scusate scusate quasi grado 11 no quasi livello 11 noi intanto ci portiamo sulle 2257 coppe e tra un pochino possiamo decidere di dare 75 punti a uno dei nostri brawler vediamo un attimo non lo so sinceramente magari potrei tenerli magari quando trovo qualche leggendario o qualche cosa super tra 800 trofei quasi vabbè diciamo quasi 750 sblocchiamo dynamic che non è male andiamo con la quarta partita ragazzi questa l'abbiamo vinta qui c'è questo quinte questa l'abbiamo vinta ora dobbiamo fare dobbiamo riconfermarci e fare un'altra vittoria speriamo sicuramente non sarà così però noi dobbiamo sperarci c'è una shell ok che però ci lascia in pace quindi noi ci prendiamo intanto questa cassa poi ci prendiamo anche quest'altra e andiamo avanti raga quelli si stanno per ammazzare questa shell è circondata noi prendiamo il costo e ce ne andiamo così l'abbiamo guadagnato noi che c'è un colt che mi ha un po' aiutato qui ci dovrebbe essere un colt che mi ha un po' aiutato qui ci dovrebbe essere un colt che mi ha un po' aiutato che caga ok ce lo siamo fatti scontro finale io sono a livello 7 me la so un po' ciulata sinceramente avete ragione ragazzi però io verrà l'aspetto qui non mi devo avvicinare devo aspettare devo stare devo fare con calma tutto con calma ok forse lui non se l'aspetta che io so qui che non se l'aspetta noi prendiamo lo prendiamo di contropiede l'ammazziamo ragazzi andiamo con la seconda vittoria di fila forza ragazzi lo sapevo che ci si poteva fare e andiamo col grado 11 di bull andiamo forza bellissima questa partita usciamo vedere ragazzi che per concludere bellezza facciamo una quinta partita non so se la vincerò speriamo di vincere due partite di fila non è andato malissimo continuiamo ad andare così forza ragazzi che arriviamo a 4000 trofei come il burro ok c'è il bull che ci viene a contendere le casse no forse no ok ha cambiato idea siamo noi bull dominanti con due vittorie di fila forse va si c'è un ecco si vedi c'è un un mortis che va contendere magari che ne so si ammazzano magari e io magari intervengo sai com'è usa bene mortis questo video usa le mosse per scappare usa l'attacchio per scappare eh ma mi sa che sei in trappo l'amico mio io aspetto qui finchè non arriva la safe per me non ci sono tanti problemi eh non riesce no è più veloce il parecchio di me riuscirà sicuramente a vendere interamente ok ha trovato un barrel che lo ammazzerà quasi sicuramente ma noi ce lo prendiamo noi il barrel ora adesso eh ma c'è la mossa e può scappare quando vuole avete visto spara anche più lontano di noi quindi volendo ci può shottare quindi lo facciamo con calma quello no quello è un po' troppo esagerato forse ok per me gli posso anche lasciare eh ragazzi quello lì sarà già il vincitore già un bull al 6 quello è bull all'8 peggio mi sento siamo rimasti in 3 ragazzi sono il più svantaggiato di tutti no aiuto eh poi se la riprendano tutti i due con me lo so che sono il più debole ma state attenti che a volte il più debole può rilevarsi il più forte amici miei eh quindi state molto attenti non mi scassate le palle tanto attenzione infatti me lo faccio fuori uso la mossa speciale lui forse lui è pittato di me un attimo dobbiamo recuperare vita lui è il livello 8 però ce la possiamo giocare bene proviamo a tirare magari un hit qua dentro proviamo a tirare un altro hit qua dentro non c'è ancora non c'è ci mettiamo qua giù un attimo eccolo 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 ragazzi troppo più potente di me ok 3600 hit avanzato prossimo arrivati secondi comunque sia ottima partita ragazzi andiamo con un bel più 6 manca un tre fai per portarlo a livello attenzione mi invitano attenzione noi accettiamo e magari potremmo andare a fare una bella partita ok c'è già mostri ragazzi che ragazzi però magari in un altro video magari potrei portare football or con questi miei amici io spero che questo video vi sia piaciuto se è così stato mettete un bel mi piace commentate, condividete il video soprattutto iscrivetevi al canale la cosa più fondamentale noi ci vediamo al prossimo video ciao diavoli